Il Tar rinvia a ottobre la decisione sul ricorso dei sindaci contro l'elettrodotto. Nessuno stoppa i lavori, non sono irreversibili, dicono i giudici. Botta e risposta tra provincia e regione sulle spese per le scuole dopo il passaggio alle UTI. La Giunta approva una delibera che sana la situazione. Più tasse e zero contributi ai bar con le slot, se ne discute in consiglio. Anche per gli esercenti non sempre è facile liberarsi dalle macchinette. Pienamente recuperato Emanuele Badu, il gadese che aveva rimediato una botta nella sessione di ieri, oggi ha svolto tutto il lavoro con il gruppo. E tutto pronto per la festa dei tifosi in piazza, organizzata dall'AUC, una tre giorni di musica e cibo a tinte bianconere. Buonasera dalla redazione di Udinews. Questi i titoli principali dell'edizione di oggi del nostro TG, ma come sempre iniziamo con lo sport, con le ultime che ci arrivano da casa udinese. E allora subito la parola ad Alice Mattelloni. Buonasera Alice. Buonasera Angela, buonasera a tutti voi da casa. Partiamo subito con le notizie che riguardano la nostra Udinese. Perché ci si continua ad allenare al centro sportivo Bruseschi in vista dell'amichevole di domani contro gli sloveni dell'NK Istra. Buone notizie dall'infermeria. Torna ad allenarsi Badu con il gruppo. Il servizio di Fernando Siani. Venerdì d'allenamento per l'Udinese di Gigi Del Neri. Il gruppo ha ritrovato qualche giocatore che era andato via per le nazionali. Parliamo di Samuele Perisan e Andrea Balic che hanno fatto rientro qui a Udine dopo aver rappresentato la Croazia Under 21 e l'Italia Under 20. Oggi giornata di esercitazioni tecnico-tattiche per il gruppo bianconero con Gigi Del Neri in campo a telecomandare i suoi. Prove di 4-2-3-1 con in particolare il focus sul trequartista. Il mister ha spiegato un po' quali sono i movimenti da fare e devo dire che in campo i risultati sono visti immediatamente. Tra l'altro proprio il campo ci restituisce subito Emanuel Badu. È rientrato l'allarme per il ganese che aveva lasciato anzitempo l'allenamento di ieri. Sta bene, tutto rientrato, dunque sarà assolutamente disponibile anche per la prossima settimana. Non c'è invece ancora Felipe. L'Italo-Brasiliano ha ancora qualche problema che ci auguriamo possa smaltire in tempo per la sfida con il Torino. Sta bene anche Samir, altro giocatore che era uscito malconcio dalla gara con il Palermo. Ha sostenuto praticamente tutta la settimana insieme al gruppo. Gruppo che sta preparando la sfida di domani contro l'NK Istria. Sarà la formazione slovena l'avversario di questa settimana in attesa di riprendere la Serie A. Un avversario chiaramente non a livello dei bianconeri ma che sarà comunque utile per testare quello che è lo stato di forma soprattutto di quei ragazzi che hanno visto meno il campo nel corso di questo campionato. Il morale è molto buono e la voglia di finire questa stagione con il miglior piazzamento possibile è sempre molto forte e quindi la squadra di Gigi Del Neri sta cercando in ogni modo di prepararsi al meglio per riprendere le operazioni. Prime gioie nazionali per Janto e Zapata. Il Ceco ha addirittura trovato la via del gol. Abbiamo parlato di questo oggi pomeriggio con il mister Gigi Del Neri. Sentiamo quindi un estratto dell'intervista che vedremo integralmente questa sera al Friday Night Live. In compagnia di mister Gigi Del Neri siamo fermi per la sosta nazionale. L'Udinese è pronta ad affrontare l'NKista, siamo pronti anche al bagno di folla con i nostri tifosi però dai nostri nazionali in giro per il mondo arrivano buone notizie. Due esordi in Nazionalea, uno per Jankton e uno per Zapata che dimostrano il grande lavoro fatto sui giovani quest'anno. Mi ha dimostrato anche le loro qualità. Penso che sia un dato importante per quello che stanno costruendo. Vuol dire che le scelte societarie fatte anche prima del mio arrivo sono state importanti sul profilo di attenzione sui giovani importanti. La dimostrazione è che se i nazionali loro la fanno, non dico da padrona, però ha fatto vedere anche di poter starci e di poter giocare ad alti livelli come Jankton che è giovane, come Zappa che per la prima volta ha convocato nella Colombia come titolare, quasi titolare, ha giocato ed è anche bene. Quindi vuol dire che il nostro pensiero, la nostra crescita è costante e spero che altri giovani, sono andati anche altri giocatori, altri che possono essere per il primo anno anche protagonisti dei campionati nostri possono avere anche qualche opportunità per operare anche le loro nazionali. Il campionato si ferma ma i tifosi non fanno altrettanto. È tutto pronto infatti per la festa dei tifosi organizzata dalla UC. La prima di edizione si terrà infatti dal 24 al 26 marzo in piazzale Venerio. Un tre giorni di festa all'insegna del cibo, della musica e del divertimento. Stefano Giovampietro. Il campionato è fermo ma i tifosi dell'Udinese non contemplano nel proprio vocabolario la parola sosta e la mancanza di campionato per via degli impegni con le nazionali maggiori è stato il miglior pretesto per l'associazione degli Udinese Club per concretizzare un'idea già da tempo nel calderone dei pensieri. Al via la festa dei tifosi in piazza. I capisaldi sono semplici e da sempre i più amati. Stare in compagnia, mangiare bene, bere bene e celebrare tutti insieme la grande passione bianconera che fa da comune denominatore. L'area di primavera sarà un surplus importante per festeggiare in piazza Venerio nelle giornate del 24, 25 e 26 marzo. Sarà un fine settimana all'insegna delle eccellenze friulane nel mondo enogastronomico e in quello sportivo. Grazie alla partecipazione dei club di San Daniele, Maniago, Fagagna, Carpacco, Lignano e Colli Morenici con i quali sarà possibile svariare dal mitico prosciutto fino alla gubana passando per le griglie di carne e pesce, ragù d'asino, pitina, polenta e l'immancabile frico. Si parte questa sera con l'aperitivo iniziale a suon di crudo e formaggio. Centrale la giornata di sabato con l'incontro con la GSA a più di Udine nella mattinata è l'arrivo nel pomeriggio, subito dopo la partita con l'NK Istra dell'Udinese Calcio. Domenica giornata dedicata ai giochi per bambini e a chi vuole godersi in serenità il clima di festa. Udinese TV vi porterà con le sue telecamere già da stasera nel pieno della festa dei tifosi e poi domani con una super diretta. Un'iniziativa che rappresenta in pieno lo spirito dei tifosi bianconeri concentrato in una tre giorni dai sapori deliziosi. Queste le prime notizie di sport, a te Angela Lalina per la cronaca. Grazie Alice, noi proseguiamo il nostro Tg parlando del pronunciamento del Tar del Lazio che ha rinviato al mese di ottobre, quindi tra sei mesi, la decisione nel merito sul ricorso presentato da sette sindaci di sette comuni friulani contro l'elettrodotto Re di Puglia, Udine Ovest. Nessuna sospensiva, i lavori potranno dunque procedere anche perché, dicono i giudici, l'opera non è irreversibile. Sentiamo tutti i particolari nel servizio di Francesca Santoro. Rinvio il 4 ottobre per l'udienza pubblica per il ricorso contro l'elettrodotto Udine Ovest Re di Puglia. Questa è la decisione del Tar, a cui si sono rivolti sette comuni contrari all'opera, ovvero Palmanova, Mortegliano, Pavia di Udine, Trivignano, San Vito il Torre, Lestizia e Basiliano. Con il ricorso, le sette amministrazioni hanno chiesto alla Regione e al Ministero per l'Ambiente di annullare il decreto di compatibilità ambientale. Nell'ordinanza, che non ordina la sospensione dei lavori, i giudici amministrativi spiegano che le opere di completamento dell'elettrodotto di Terna non sembrano avere carattere irreversibile, sottolineando anche come il cantiere sia stato già realizzato per circa l'80%. Inoltre fanno notare che il tratto mancante ha una lunghezza di circa un chilometro sui 39 complessivi previsti dal progetto. La decisione del Tar complica ulteriormente la vita ai comuni, la facilità a Terna, il commento a caldo del primo cittadino di Palmanova, Francesco Martinez, che aggiunge, speravamo nella sospensiva dei lavori per guadagnare tempo, ma così non è stato. Continuiamo con la politica, botta e risposta tra provincia e regione sulle spese per le scuole dopo il passaggio di competenze alle UTI. Cominciamo con le preoccupazioni espresse dal presidente della provincia di Udine, Pietro Fontanini, oggi durante l'inaugurazione dei lavori di ristrutturazione della facciata di una delle scuole storiche di Udine, l'Istituto Cecconi. Sentiamo l'intervista. È un lavoro particolare che la provincia ha portato avanti in sinergia con la sovrintendenza. L'importo dei lavori di quasi mezzo milione di euro è una delle tante cose che la provincia in questi anni ha realizzato sul suo territorio, da Tervisio fino a Lignano. L'anno scorso abbiamo speso più di 8 milioni, quest'anno abbiamo in programma di spenderne altri 4, però la competenza ormai è a termine, perché col primo di aprile questa competenza che per 200 anni è stata della provincia di Udine, adesso dobbiamo lasciare questa competenza a 10 UTI, siamo preoccupati perché il rischio è che si faccia confusione, che si disperda un patrimonio professionale molto importante che è soprattutto dato dai 35 dipendenti della provincia di Udine che si interessano di edilizia scolastica. Noi avevamo chiesto alla regione di lasciarci terminare l'anno scolastico, che significa fino al 31 agosto avere ancora questa competenza, perché noi i soldi li abbiamo, la competenza pure e quindi potevamo dare sicurezza per quanto riguarda la conclusione dell'anno scolastico in serenità e preparare i comuni affinché siano pronti a subentrare alla provincia, cosa non facile perché stiamo parlando di quasi 130 plessi che ha bisogno di manutenzione, che ha bisogno di sicurezza, che ha bisogno di tante piccole e grandi cose. E in una nota la direzione generale della regione afferma che non vi è alcuna criticità nel passaggio di competenze sulle scuole. Per quanto riguarda la manutenzione degli edifici, oggi la giunta regionale ha approvato il piano di subentro che attribuisce all'Unione del Friuli Centrale sia la gestione degli istituti scolastici già pertinenti alla provincia, sia le risorse per farvi fronte, circa 4 milioni di euro. Nella stessa nota la regione precisa anche che la prossima settimana sarà sottoscritta con l'Uti una convenzione per l'affidamento del servizio di redazione delle buste paga del personale, che sarà gestito da un ufficio regionale, garantendo così la continuità nell'erogazione degli stipendi. E continuiamo con la pagina politico-amministrativa, con i lavori delle commissioni consigliari che in questi giorni stanno affrontando anche il dibattito su un nuovo disegno di legge che riguarda la diffusione sul territorio delle cosiddette slot machine. L'obiettivo è quello di dare un giro di vite alle cosiddette macchinette. Davide Zanirato è andato a sentire anche cosa pensano gli esercenti su questo nuovo provvedimento che prevede più tasse e nessun contributo per i bar che hanno appunto le slot machine. Se le precedenti norme sulle distanze delle slot VLT dai luoghi sensibili come scuole o strutture sanitarie pare non abbia proprio funzionato, prova ne sarebbe che le sale da gioco si sono spostate in periferia, ora la Regione è pronta a varare una nuova legge in materia. In Commissione Salute è stata avanzata la proposta dell'azzeramento dei contributi regionali agli esercizi pubblici e alle attività commerciali con le macchinette infernali, destinati a subire anche una penalizzazione sull'IRAP dello 0,92% che sarà invece scontata a quanti rinunceranno agli apparecchi. Tra gli esercenti si registrano alcune voci favorevoli, altre contrari e c'è chi, per esempio, ci racconta che provare a dire addio alle slot dei propri negozi sta diventando un percorso ad ostacoli. Noi abbiamo preso le slot machine perché erano un guadagno, quindi onestamente appena aperta l'attività in centro storico, non gira gente così malaccio, quindi ci pagavamo l'affitto. Dopodiché negli ultimi anni è stato non dimezzato, ma il guadagno è stato reso un sesto di quello che era e abbiamo dato disdetta per ampliare l'attività. Adesso avete problemi appunto a farvele togliere? Sì, perché volevamo dare disdetta e loro hanno tirato un po' il sedere indietro, si sono fatti desiderare al telefono, gli ho chiesto la documentazione necessaria e loro mi hanno detto che non erano tenuti a mandarla perché alcune cose si dicono a parole ma per iscritto no e quindi mi sono dovuta rivolgere un avvocato che mi ha aiutata, guardando bene il contratto, a dare una disdetta con tutti i crismi e se Dio vuole fra un anno le toglieremo, ma se venisse qualcuno di forza superiore a dirmi volentieri vi aiuto a tirarle via domani, io sono qua. Nuovi tentativi insomma di frenare un fenomeno in drammatica ascesa, quello della ludopatia, che per molti va comunque esterpato alla fonte. Il pensiero comune infatti rimane immutato, non può esistere uno stato medico e allo stesso tempo biscaziere. E tiene ancora a banco il tema dei rimborsi a soci e creditori Copcan. Abbiamo parlato anche noi ieri sera nell'ambito della nostra trasmissione di approfondimento del Giovedì L'Agenda condotta da Alberto Terasso. Andiamo a sentire le parole dell'avvocato Gianberto Zilli che rappresenta parte dei soci della cooperativa carnica. Sentiamo. Due parole sulla questione di Alleanza.3, questa prima tranche che è arrivata, come va accolta? E come va accolta lo devono dire i soci prestatori che beneficeranno di questa liberalità. Quello che io devo dire oggettivamente è che se non ci fosse stata questa liberalità, dal piano concordatario, quindi dal punto di vista del diritto, i soci prestatori possono pensare di ricevere ben poco. Rimangono, da un punto di vista del diritto, i soci prestatori e anche i fornitori. Queste due entità pesano all'interno del monte debiti per circa 50 milioni di euro. Cosa devono dividersi queste due categorie? I beni che non sono stati venduti, che valgono teoricamente 5 milioni 992 mila euro. Lei non è capace di trovare un aggettivo? Cioè, impossibile per esempio mi pare... Io ne ho molti di aggettivi, però ognuno fa i conti, no? No, non voglio dire impossibile, mi pare una cosa abbastanza adeguata al momento. Allora, non possono soddisfarli chiaramente, li soddisferanno secondo quelle che sono le percentuali concordatarie, che prevede appunto un 67% a favore dei creditori prestatori sociali, un 33% a favore dei fornitori. Quindi questi 5 milioni 992 mila euro devono essere divisi secondo queste percentuali. E rimaniamo nell'Alto Friuli perché oggi si è riunita l'Assemblea territoriale della CISL dell'Alto Friuli che ha ribadito la necessità di disporre un piano per il rilancio della montagna e superare le tante difficoltà che quest'area della nostra provincia deve affrontare. Ne abbiamo parlato con il segretario Collauti. Sentiamo l'intervista. Lo scopolamento, la difficoltà creata da alcune riforme messe in campo, penso, parlo quello delle UTI, la necessità di continuare ad investire sul tema ambiente, montagne, risorse, sul manifatturiero che qui è una realtà molto importante, l'aspetto dell'agroalimentare, penso al Consorzio dei Prosciuti, San Danilese. Quindi opportunità e negatività che stanno insieme e che vanno in qualche modo messe a sistema, messe a rete perché continuiamo a denunciare che pur in tutto questo pailan di interventi sulle norme e sulle regole manca ancora una vera regia per la montagna. E continuiamo con la cronaca con due incidenti stradali avvenuti oggi alla periferia di Udine. Il più grave nel primo pomeriggio a Santa Caterina dove è rimasto ferito un motociclista. Questa mattina invece in Viale Palmanova un SUV è finito ruote all'aria. Sentiamo il servizio di Davide Zanirato. Grave incidente stradale quest'oggi verso le 13.30 all'altezza del sottopassaggio di Santa Caterina a Pasiandi Prato. Una motocicletta Yamaha si è scontrata frontalmente con una macchina. Il conducente delle due ruote è rimasto ferito in modo serio. Più lievi invece le conseguenze per la donna che era al volante dell'utilitaria. Per accertare la dinamica dell'incidente sono giunti sul posto gli agenti della stradale di Tolmezzo. Il motociclista è stato quindi soccorso dal personale del 118 e accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della Misericordia. Secondo i primi accertamenti medici non è in pericolo di vita. Sempre a Pasiandi Prato, quasi contemporaneamente, si è verificato anche un altro incidente stradale. Una vettura è finita nel giardino di una abitazione dopo aver abbattuto Muretto e Ringhiera. Fortunatamente in quel momento nel cortile della casa non c'era nessuno. La persona che era al volante, una donna di 43 anni, è rimasta ferita in modo non grave ed è stata soccorsa dal personale del 118. In mattinata, invece, una Golf TDI Station Wagon, per causa ancora da definire, si è ribaltata attorno alle ore 7.30 in Viale Palmanova, all'altezza dell'incrocio con Via Caratti. Alla guida della vettura, un trentenne straniero, che non ha riportato ferite gravi, ma solamente delle contusioni. Molteplici, invece, le ripercussioni sul transito locale, con le deviazioni sul posto a cura della polizia locale. In passato ci siamo già occupati del tema delle caserme disbesse e abbandonate presenti nella nostra regione. Tra le tante ce n'è una, in particolare, la caserma Sbaiz di Visco, che si trova in una situazione davvero particolare. Questa mattina siamo entrati con le telecamere di Buongiorno Friuli nell'area della caserma. Vediamo cosa abbiamo trovato. Da potenziale risorsa a danno per la salute dei cittadini e zavorra per le casse comunali. È il caso della caserma Sbaiz di Visco, trasformatasi in una costosa grana data la presenza massiccia di amianto. Nel 2010 la sovrintendenza ha infatti posto un vincolo sui 70.000 m2 del complesso militare, in quanto l'area nel 1943 ha accolto un campo di internamento per civili ex-yugoslavi. Nonostante le ripetute stanze del comune, che hanno portato anche a un recente sopraluogo di arpa e azienda sanitaria, non è quindi possibile né procedere alla bonifica dell'Eternit né tantomeno pensare a progetti futuri. Là si nota proprio che si sta sgretolando, anche causa la vegetazione, ma causa anche il tempo, gli edifici faticienti ormai. Purtroppo l'amianto sappiamo benissimo la pericolosità che ha per le persone. Noi stiamo cercando di salvaguardare i nostri cittadini il più possibile da questo problema. Voi adesso potete vedere un viale della memoria molto pulito, ma il comune è intervenuto con un'opera molto forte di bonifica. Logicamente un piccolo comune come il nostro non può farsi sempre carico di tutte queste cose. Ha bisogno di un intervento di qualche istituzione più in alto rispetto a noi. La logistica dei trasporti in regione anche in funzione del porto di Trieste è stata al centro questo pomeriggio di un convegno nella sede di Confindustria. Vediamo cosa è emerso nel servizio di Davide Zanirato. Il porto di Trieste è diventato il primo porto ferroviario in Italia con un incremento dei treni del 27% nell'ultimo anno e del 68% nel biennio. Ed è l'unico porto italiano con treni diretti e frequenti su percorrenza internazionale. Austria, Germania, Lussemburgo, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia. Proprio da queste opportunità gli imprenditori friulani vogliono trovare nuovi sbocchi sui mercati esteri. Permetteranno di mettere a disposizione degli utenti industriali non solo locali ma anche internazionali delle nuove aree con nuove strutture e strutture anche esse digitalizzate che permetteranno di creare più competitività per le aziende che si insedieranno in questi territori. Ecco quindi che diventa strategico un sistema logistico regionale in funzione dei flussi di traffico delle merci. Tutta una serie di destinazioni che noi potremmo pensare di mettere a disposizione del contesto industriale friulano utilizzando quelle piattaforme ferroviarie che oggi hanno una fortissima disponibilità di capacità ferroviaria. Quindi immagino treni del porto di Trieste che oggi vanno direttamente su certe destinazioni ma che potrebbero fermarsi a Cervignano piuttosto che a Pordenone e quindi permettere al contesto industriale friulano di usufruire di questi treni e quindi di ampliare proprio il bacino di mercato continentale. Cividale, Palmanova, Aquileia e Grado hanno fondato oggi un distretto particolare per puntare e valorizzare il turismo slow ed esperienziale. Sentiamo. È stato stipulato stamani a Trieste il protocollo d'intesa tra i comuni di Cividale, Palmanova, Aquileia, Grado e Promo Turismo FWG per una serie di collaborazioni che vanno dalla promozione alla realizzazione di azioni congiunte e di reti d'impresa. Più specificatamente si tratta della costituzione in via sperimentale del distretto dei quattro comuni. Vedere quattro comuni di questo livello, quattro perle della nostra regione, perché Aquileia, ma anzi partendo da Cividale, Cividale, Palmanova, Aquileia e Grado che decidono autonomamente, senza alcuna spinta, senza alcun elemento coercitivo nei loro confronti di unirsi per quanto riguarda la promozione turistica, le reti d'impresa, il promuovere un territorio complessivamente non solo con manifestazioni ma anche con azioni congiunte e devo dire che per noi è molto importante e soddisfacente. In più lo fanno all'interno del piano del turismo del Friuli Venezia Giulia 14-18. Quindi riescono a tenere assieme quelle che sono le nostre linee guida complessive, il nostro agire, con il loro agire. Beh, insomma, finalmente in Friuli Venezia Giulia si vedono anche questi elementi positivi che fanno ben sperare per gli aumenti degli ospiti che arriveranno qui nella nostra regione. E parliamo di musica ora, perché questa sera, come ogni venerdì alle 22 andrà in onda allo speciale Musica E con Renato Pontoni. Questa sera si parlerà dei sex symbol della musica. Vediamo un piccolo estratto. Torniamo su Elvis, dimmi l'ultima cosa che poi passiamo... Beh, intanto il più grande sex symbol di tutti i tempi in America è stato il più grande. Diciamo che Mick Jagger, che secondo me è un altro sex symbol, ha detto che dopo di lui nessuno mai è uguale. Quindi lo dice Mick Jagger, non lo dice 1X. C'è da dire un'altra cosa, che per la prima volta nel 73 hanno fatto un collegamento in mondo visione con un miliardo di telespettatori da Onolulu. C'è da questo concerto dove Elvis esibiva, appunto, a Onolulu questo Hawaii Festival e che è diventato da lì e poi è partita la sua carriera più, diciamo, popolare. Perché un miliardo di telespettatori, parliamo del 73, Mamma mia, sono tantissime. Non c'è mai stata. Sì, veramente. Risale a 30 anni fa la registrazione del primo indirizzo internet.it e per celebrare questa ricorrenza arriva a Udine il road show della ludoteca del registro.it un evento educativo sulla cultura digitale rivolto a bambini e adulti organizzato dal registro dei domini a targa.it Sentiamo l'intervista realizzata da Monica Nardini. Cerchiamo di spostarci dal terreno dell'abilità al terreno della consapevolezza cercando proprio di partire anche dalle basi tecniche per far capire ai bambini che internet non è qualcosa di volatile qualcosa che non ha delle regole una giungla dove tutto è permesso, dove tutto è bello fatto il mondo delle app. Un consiglio magari da dare ai più piccoli ma anche ai genitori che ci stanno guardando? Allora, per gli adulti e i genitori comunque è importante conoscere lo strumento lo strumento internet e il web quindi con tutte le risorse che può offrire e anche condividere con i bambini questa è un po' la parola chiave e proprio per essere consapevoli poi ai padroni di trasmettere anche quei valori che dicevo prima valgono nella vita offline. La stessa cosa per i bambini nel senso proprio più di rimarcare che non c'è differenza tra le regole che hanno appreso in famiglia o nella scuola e che valgono nella vita reale rispetto a quelle che devono seguire quando sono connessi. È il momento di tornare a parlare di sport la linea quindi passa ad Alice Mattelloni. Grazie Angela e da bianco nero a nero verde perché il Pordenone domenica scenderà in campo al Bottecchia che ospiterà il Lumezzane. Il sogno Serie B è ancora vivo ma fondamentale è il risultato positivo. Ritrovata la vittoria in trasferta dopo cinque sconfitte esterne il Pordenone si prepara a ospitare il Lumezzane al Bottecchia con l'unico obiettivo di mantenere la continuità dei risultati. Nelle Marche non si poteva far altro che vincere e la squadra di Tedino si è mostrata concentrata al punto giusto nella classica gara dalle mille insidie. Arma e compagni hanno invece mantenuto sangue freddo superando la prima Ancona di De Patre ultima invece in classifica anche il Lumezzane è avversario insidioso ma ora come ora i nero verdi non possono guardare i punti in classifica o il blasone dell'avversario. La resurrezione in trasferta deve essere il preludio a un'altra vittoria in un girone cannibalizzato dal Venezia infatti il secondo posto non è proprio una chimera come riconosciuto da Sergio Succiu il Parma terzo dista tre punti cinque invece le lunghezze dal secondo Padova che giocherà nel posticipo contro il Bassano di Bertotto mentre i Ducari saranno impegnati invece in Umbria a Gubbio prima di fare i conti in tasca alle altre però Tedino vuole i tre punti dall'anticipo della giornata e per farlo potrà tornare a contare su Berrettoni lì davanti anche se resta un piccolo punto interrogativo sul bomber del momento Padovan in gol anche contro l'Ancona ma che potrebbe farcela per sabato saranno out Ingegneri e Pellegrini per il resto non ci dovrebbero essere grandi cambi di formazione in vista di una gara decisiva come però lo saranno presumibilmente tutte da ora al termine della regular season E alle 20.30 questa sera si disputerà Italia-Albania una sfida fondamentale per raggiungere il primo posto del gruppo di qualificazione ai mondiali Ci racconta le emozioni prima del fischio d'inizio Franco Zuccalà In Italia e Albania sono in palio tre punti decisivi per gli azzurri che non si vogliono far staccare dalla Spagna nella corsa alle qualificazioni mondiali Ventura ha detto di voler proseguire sulla strada giusta intrapresa nelle ultime gare della sua gestione ma non è una partita da sottovalutare per Immobile e Belotti l'occasione buona per dimostrarsi la coppia dei gol per Buffon alla presenza numero 1000 nella sua lunga carriera calcistica la possibilità di festeggiare con una vittoria il portiere della Nazionale ha detto di essersi posto un traguardo 2018 poi si vedrà Buffon ha appoggiato la proposta di anticipare l'inizio della prossima stagione per essere pronti poi a sfidare la Spagna i primi di settembre sull'altro fronte Gianni De Biasi non ha voluto fare il nome di chi gli ha impedito di diventare Cittiazzo insomma non mancheranno i motivi tecnici e polemici da Valermo Franco Zuccalac questo per oggi era l'ultimo servizio io ti ripasso la linea Angela per le ultime informazioni di oggi sì e noi chiudiamo come sempre dando uno sguardo alle previsioni del tempo per la giornata di domani su pianura e costa avremo cielo sereno e soffierà bora moderata al mattino più sostenuta lunga la costa in calo nel pomeriggio quando le temperature saranno molto miti sui monti al mattino avremo bel tempo ad eccezione del Tarvisiano dove sarà probabilmente coperto da nubi basse mentre in giornata prevarrà cielo poco nuvoloso o al più variabile su tutta l'area montana domani in pianura avremo anche massime di 20-23 gradi prima di salutarci un ultimo aggiornamento di cronaca che ci arriva dal sito del centro ricerche sismologiche dell'OGS che ci segnala una scossa di terremoto che è stata registrata poco più di mezz'ora fa della magnitudo di 2.1 la località della scossa è Cavazzo Carlico quest'ultimo aggiornamento su questa scossa di terremoto anche se di magnitudo bassa 2.1 che fa seguito all'altra scossa che si era registrata nei giorni scorsi a Venzone è davvero tutto per questa edizione del nostro TG grazie per la vostra attenzione e l'invito ovviamente è quello di rimanere in nostra compagnia buona serata a tutti grazie 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 a tutti.